Continua la serata al Barahonda Disco Club di Milano, questa sera Miss & Mr. Fashion & Glamour non vediamo l'ora di scoprire chi saranno i concorrenti e di scoprire chi sarà il vincitore ma adesso grazie per essere con noi Milena, abbiamo con noi Milena Ravascia, ospite d'onore della serata benvenuta, grazie di nuovo per essere con noi Grazie, grazie, grazie a te, grazie sempre piccole magazine e niente, sarà una bellissima serata e speriamo che venga migliore, tanto sono lusingata di essere qui Grazie a te per le parole che scambi sempre con noi questa sera vedremo sfilare bei ragazzi e belle ragazze che cosa apprezzerai di più dei concorrenti? Allora, la bellezza, l'eleganza e anche l'abito, tutto un completo, tutto un conjunto e quindi aspettiamo una bellissima serata Assolutamente sì, grazie ancora per essere stata con noi e ci vediamo dopo in diretta Ciao, bacio a tutti